La prima cosa da fare è trasferire Edoardo con Tappoggio Reale. È fuori controllo, è una fonte di guai sia per noi che per lui. Massimo Esposito Ma perché pensate che mi fatti sempre? Visto che siete così intelligenti, perché non mi inventate un altro modo per far girare un mondo? Pino Pagano Dopo che mi hai portato in questa suite, ci pregherai a fare colazione che dovremmo liberare la stanza. Nadizza Oggi come che la vendetta non è la scelta giusta, la scelta più feroce, la più semplice. Gaetano Sannino Non mi hai mai amato, è così, è così, ma perché non mi hai mai veramente voluta, no? Non... Cubrailo Se non vi dispiace vorrei dedicare un brano a una ragazza speciale, ma in questo periodo non riesco a dimostrarle il mio amore con i fatti. Filippo Ferrari Tu hai una famiglia, devi pensare a loro prima che a me. Non è importante quello che provo io, lo capisci? Paola Vinci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti